Ben ritrovati con il notiziario delle quotazioni dell'olio extravergine di oliva del 15 aprile. Secondo le stime preliminari Istat, nel mese di marzo 2022 l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività registra un aumento dell'1,2% su base mensile e del 6,7% su base annua. Tale andamento si rapporta correttamente alle quotazioni dell'olio extravergine di oliva, riferito a vendite all'ingrosso, franco partenza, con aumenti limitati ma costanti. Diamo ora uno sguardo alle principali piazze italiane, dove i valori più alti si sono registrati. Chietia-Pescara 5,50, Verona 5,00, Palermo 5,25, Roma 4,75, Firenze-Genova-Imperia 4,55, chilo. Passiamo ora al prodotto certificato biologico. Il biologico italiano è passato dal 25 febbraio alla data attuale da €4,70 a €5,00, mentre il biologico Unione Europea è passato da €4,10 a €4,85. Pressoché stazionarie, le quotazioni sui mercati dell'Unione Europea, Spagna 3,63 euro, Grecia 3,68 euro, mentre sui mercati extra-UE il rialzo maggiore si è avuto in Marocco con 3,60 euro. Grazie per la cortese attenzione, auguriamo a tutti voi una lieta Pasqua e arrivederci alla prossima settimana. Campania finanziata con il contributo della Unione Europea e dell'Italia.